E siamo al telefono con l'autrice di questa scelta, con lei che ha deciso di farci ascoltare questa mattina Five Starter dei Prodigy. Devo dire un po' inaspettata. Buongiorno Loretana Macchiettimina, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori innanzitutto. Da dove viene questa scelta? È una scelta della mia gioventù, un po' tipolata, diciamo così. Però in realtà, dato che io sono una iperattiva, questa scelta, che io mi sento ogni tanto i prodigi, mi rende abbastanza tonica per affrontare la giornata. Giusto. Poi io li amavo, vabbè, però è un'altra storia. Ma questa cosa è meravigliosa. Vorrei tanto sapere queste storie, diciamo, antiche, ma non le chiedo. Siamo stati anche noi al concerto dei Prodigy. Certo, siamo stati anche noi. Devo dire, è stato anche un bellissimo concerto. Forse eravamo allo stesso concerto, è possibile. Non lo so. Può essere. Io sono un po' vecchiotta, diciamo così, ed ero abbastanza... Dunque, quando sono usciti avevo trent'anni, quindi ero abbastanza in là con l'età. Però tutta quell'epoca dei punk, diciamo così, punk rock, alle persone della nostra generazione faceva un po' da, come posso dire, da... Da... Sfogo? De compressione. Noi eravamo molto compressi. Vivevamo un'era abbastanza complicata. La famosa... La famosa età del... Grigia, no? Del 77, 75, 77. Molto, molto dinamica, molto vivace, ma anche molto... Non dico violenta, ma molto agitata. Ecco. Quindi i complessi punk erano un modo anche per decomprimere questa... Questa oppressione. Sembra un gioco di parole, ma in realtà ci hanno aiutato molto. Beh, questo è un po'... Non c'erano gli iPhone, ma c'erano i prodotti. E' certo. Beh, quella è un po', diciamo, una caratteristica degli anni 90, no? Cioè, di averci creato un attimo una zona di comfort, anche se un po' fittizia, però ecco, ci siamo tutti un po' tranquillizzati in quel periodo. Allora... Tra l'altro, sì, è vero. Poi guardate, l'incontro con Mina per me è stato fondamentale, perché lui amava la musica e mi diceva sempre che non bisognava fare... Cioè, le scelte che noi facciamo, ecco, vedete, voi avete già detto, una scelta anomala, no? Un po'. In realtà la musica è una sola, quindi si può scegliere e sentire di tutto e di più. Infatti il mio dubbio, no? Sulla scelta musicale era sui, pensate, sui Pink Floyd, perché io li amo moltissimo. Hanno dei testi di alcune canzoni che sono meravigliose, quindi ci serve anche per farci capire meglio noi stessi e far capire meglio, dipende dalla musica ovviamente, dai gruppi, eccetera, dagli autori, ma ci aiuta a, come posso dire, a codificare meglio il periodo che stiamo vivendo. Certo. Poco tempo fa era così, ma forse anche ora. Anche ora, anche ora, sì. Alcuni testi di alcuni rapper, no? Scusate, io la pronuncio in inglese, io non so l'inglese, quindi li dico come leggo. Va bene, va bene. Sono, ecco, quella generazione che non ha studiato l'inglese, anzi non ha potuto studiare l'inglese. Quindi questi testi, anche molti potrebbero dire, che pochezza di testi. In realtà le canzoni, la musica, gli autori rappresentano pure la vita che stiamo vivendo. Quindi oggi, ad esempio, viviamo una pochetta di parole, no? Perché le parole ce le hanno un po' rubate i device, con gli emoji, no? Voi, se ci fate caso, gli emoji è un, diciamo, è un linguaggio. Sì, è una sorta di via breve per esprimere i propri sentimenti. Dei moderni geroblifici, sì, sì. Eh, un po' sì, però ci hanno un po' derubato dalle parole. Quindi, quando dicono la pochezza delle parole dei rapper, in realtà loro usano le parole che hanno. E quindi quelle poche parole sono preziose per capire, intuire quello che le nuove generazioni stanno passando. A proposito di restituire un po' la complessità di un momento attraverso delle forme che sono anche l'arte, mi viene automatico il collegamento con il lavoro che faceva Gianni Milà, perché in effetti è proprio un po' questo. Cioè, invece di rimanere sulla superficie delle cose, andare un po' a fondo. E non solo per, appunto, la conoscenza singola di un fenomeno, di un personaggio, ma anche proprio per poter avere gli strumenti per guardarsi intorno con maggiore consapevolezza. Questo io credo che sia un po' il lavoro di un buon giornalista, il lavoro che anche che sicuramente ha fatto Gianni Milà, producendo poi una quantità di documenti, video e cose, diciamo, di qualsiasi genere che sono state messe a disposizione, aprendo questo archivio, digitalizzando anche l'archivio Gianni Milà, cosa che rientra all'interno di questa iniziativa, che è archivissima, che è, diciamo, sia da una parte chiusa nel tempo, in alcuni giorni, ma che in realtà è un'iniziativa che prende poi tutto l'anno e tutte le tempistiche. Insomma, come è nata questa idea e come poi avete fatto a mettere le mani in questa quantità mostruosa di materiale? E di dischi, poi, perché la collezione di dischi è emblematica. Sì, appunto, lui era un appassionato di jazz, di blues, di jazz, ma per la RAI ha fatto la storia del blues, del jazz, la storia del pop, del rock, quindi era un gran conoscitore. E all'epoca, ma anche ora, noi usavamo la musica, i dischi, gli LP, CD, per misurare che musica mettere nei servizi, perché lui sosteneva sempre che la musica deve essere coerente con i testi, ed è giusto, perché tu non puoi vedere, ad esempio, la sagra del carciofo di Viterbo sotto un tappeto musicale americano, non c'entra niente, no? Cosa che succede sempre. Sì, sì, con Linea Verde, per esempio, ecco, che fa sempre cose simili, no? Che mette delle musiche che... Linea Verde, ma diciamo che è ormai un'abitudine, una pigrizia mentale, io le chiamo pigrizie mentali perché per scegliere la musica adatta devi sentire tanto, 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 per poter capire istintivamente, e l'istinto te lo dà l'esperienza, la cultura nel fare queste cose, no, la sapienza in realtà, l'istinto ti dice, toh, questa va bene, e ce la metti. Questa memoria, questo archivio digitale nasce già nel 2008 con Gianni, perché facemmo una manifestazione alla Cassa del Cinema, chiamandola Gianni Minà, 50 anni di cronista, una vita da cronista, 50 anni di vita professionale, ma la facemmo come una provocazione, perché a lui era riservato il silenzio stampa, cioè non si parlava mai, avevamo una rivista che aveva collezionato solo 15 recensioni in 15 anni, quindi voglio dire, questo era un silenzio abbastanza pesante, ma lui ha sempre, è stato una vittima, ma non ha fatto mai la vittima, quindi ha sempre proposto cose culturali, e questa memoria dinamica, come l'abbiamo chiamata, si è espressa nei libri, quindi su Maradona, tu Mohamed Ali, sulla sua vita con la storia di un boxer latino, ultimo questo libro su Fidel Castro, che racchiude quattro interviste, e le quattro interviste che lui ha fatto sul leader cubano, per la Minimum Fax, e ha lasciato sia la fondazione, fondazione Gianni Minà, perché mi ha detto proprio, noi cerca un linguaggio che arrivi alle nuove generazioni, perché noi abbiamo rubato loro tutto, quindi devi restituire loro le parole, vedete come la parola parola ricorre sempre, e questo archivio dinamico l'ho fatto, l'ho potuto fare attraverso Promemoria Group, l'associazione archivissima, proprio, perché loro hanno costruito la piattaforma dove poggia, quindi autonoma, quindi non si collega a YouTube ad esempio, ma è una piattaforma autonoma della fondazione Gianni Minà, dove si appoggia tutto il suo patrimonio culturale e filmico, ovviamente lavoro solo io, quindi mano a mano metto tutto, perché la bisogna per ogni materiale fare le schede, i collegamenti, è molto bello, però è molto lento come lavoro, ma qual è la cosa fondamentale? che si sta trasformando in strumento di lavoro, cioè io sto collegando l'attualità con la memoria di Gianni, quindi ad esempio il 17 maggio il Papa, Papa Francesco, ha bypassato i partiti, ha voluto incontrare i movimenti popolari di base, quindi i movimenti laici che sono in Italia sono più di 700 sigle, se voi avete fatto caso non c'è stato nessun commento, pochissimi articoli, ma per me questo è stato un appuntamento storico e l'ho collegato nell'archivio digitale di Gianni Minà con le interviste che lui fece al social forum di Porta Alegre ci doveva fare un documentario che la RAI poi gli rifiutò, quindi noi abbiamo l'attualità con questo incontro, con questa rinascita dei movimenti popolari e la radice che è il social forum di Porta Alegre, si può trovare nell'archivio digitale di Gianni Minà, quindi Gianni Minà vive ancora e fa ancora il suo mestiere, con le sue parole ovviamente. Tutto è su www.giannimina.it perché internet non permette caratteri speciali, mi raccomando se no cercate su Google il primo risultato. www.giannimina.it, si, si scrolla fino in fondo, c'è l'archivio Gianni Minà, si richiede la password per l'archivio ovviamente privato ma aperto, nel senso che uno prende la sua chiavetta e gira e ricerca quello che vuole. Ovviamente ogni giorno metto cose. Ecco, a proposito di attività, che numeri ha l'archivio, l'ideale archivio completo e a che punto siamo? Sento poco, però ho intuito che numeri ha l'archivio completo, c'è quanta roba ci sarà. Al 100% e a che punto siamo per l'inserimento in questo momento? Eh no, allora, io ho calcolato che mi ci vorranno almeno due anni, perché io ho tre magazzini pieni di cassette, queste cassette devono essere trattate, cioè devono essere trasformate con il supporto, sono dai BVU a VHS, da tre quarti a pellicola. È un processo molto lento, molto complicato, però ad esempio ho fatto già tutto il social forum, sono almeno 15 interviste, però queste interviste che devo fare? Le devo far tradurre, quindi in portoghese o in spagnolo eccetera. Una volta che sono completate ci inserisco le schede, le schede sono, non so, la scheda della persona, quello che ha fatto, un esempio, non so come posso, ecco ad esempio sul social forum ho fatto la scheda della prima, chiamiamo la rivoluzione, ma in realtà è una protesta, della protesta di Seattle del 98, quindi la faccio la scheda perché tutto nasce da Seattle, le proteste nascono negli Stati Uniti e anche ora, se voi vedete questa cosa un po' mi diverte, perché se vedete, ad esempio c'è un sito che si chiama Accled, è un sito inglese dove si accleddata.com, vi do un dato, dove sono monitorate tutte le guerre nel mondo, sono circa 59, ma in primo piano, se voi vedete nella pagina dell'Accled ci sono gli Stati Uniti perché stanno proprio sobollendo, scoppiando le università e questa cosa è molto interessante, quindi ritornando alle dimostrazioni di Seattle, c'è da lì nasce la parola, oddio, oddio, mi viene, c'è un vuoto, vabbè, poi mi viene dopo, comunque da lì nasce il social forum che aveva già dato le ricette per il cambiamento climatico, per il cambiamento sociale, per il buon vivir, ovviamente i governi hanno buttato nel cestino, ora si ricomincia tutto da capo, però con parole più povere, ma io sono molto contenta perché qualcosa si muove, anche se è molto più difficile oggi fare un qualcosa di diverso in questa società che è molto targettizzata. E poi anche il superpotere della memoria, cioè il attingere ad un archivio, in questo caso veramente sterminato, autorevole, ma soprattutto veramente a chilometro zero dalla fonte, permette l'allenamento della memoria, ma soprattutto la registrazione di un dato che ha un tempo, noi siamo in un altro tempo e la distanza tra i due punti racconta anche quanto movimento c'è stato, da loro a noi e da noi a loro, e se ci sono stati dei piccoli movimenti, registrare questa cosa come notizia e operare di conseguenza. Allora, intanto la parola di prima era globalizzazione, non era venuta, cioè loro hanno scoperto la parola globalizzazione, cioè la descrizione di quello che stava succedendo l'hanno chiamata globalizzazione, da lì tutti i movimenti eccetera. Ma oggi perché è importante l'archivio di Minan? Non perché è un mito, un santo eccetera, ma perché continua a fare collegamenti che faceva quando lui parlava o scriveva. Continui collegamenti storici. I collegamenti sono importanti per darti l'idea, diciamo un'idea generalizzata, perché noi viviamo sempre in una società dove la comunicazione è parziale oppure decontestualizzata, proprio per farti polarizzare il giudizio, o a favore o contro, e non si fa così, cioè bisogna sempre abituarsi ad andare a fondo. Ecco, la ricerca della fonte certa. La ricerca della fonte certa la devono fare i giornalisti, ma i giornalisti oggi hanno non solo pochissimo tempo a disposizione perché devono scrivere sulla carta stampata, fare i servizi, montare i servizi, cioè non hanno il tempo per il controllo. E questo è gravissimo perché diventano vittime ma anche carnefici, diventano costruttori di malainformazione, fake news, ora la chiamano fake news, però insomma è una informazione fittizia che inquina il mondo dell'informazione. L'inquina perché non puoi più cercare la fonte certa. Nell'archivio dinamico di Gianni Minà state tranquilli che ci sono solo fonti certe, per almeno per Cuba sì. Per Cuba sì perché lui aveva, non perché era castrista, assolutamente, lui aveva capito che su Cuba gli Stati Uniti testavano per primi e per prima le dinamiche, le strategie di comunicazione, punto. Infatti là tutto nasce da come funzionano i rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti. Cioè non che il mondo della comunicazione è cambiato con Cuba, però molte strategie vengono da lì e si sono riverberate. Poi vabbè c'è stata la cosiddetta primavera araba che ha veramente rivoluzionato il mondo della comunicazione, anzi là c'è stato proprio un modo per trasformare la comunicazione in arma di guerra, però quella è un'altra storia, ma si approfondirà nell'archivio di Gianni. Arrivano attraverso WhatsApp tanti tanti messaggi degli ascoltatori e delle ascoltatrici che ringraziano veramente di cuore per questo lavoro, qualcuno scomoda il termine monumentale, ma sicuramente di grandissimo valore e tra l'altro quest'ultimo lavoro sulle fonti mi riporta ad una dichiarazione che ho sentito proprio da Mina stesso in un documento, anzi se non sbaglio era proprio un'intervista a volonté, a Blitz, dove lui si dichiarava completamente ossessionato dalla ricerca delle fonti, ma anche la creazione di rapporti umani con le persone che incontrava dal grandissimo attore all'assistente, veramente senza distinzioni. In cosa consisteva questo, tra virgolette, fact-checking e soprattutto che mole di documenti ha portato dentro l'archivio? Beh, lui quando doveva intervistare una persona, intanto sceglieva le persone per l'umanità che rappresentavano, non gliene frigava niente del ruolo professionale che ricoprivano, perché ad esempio, un esempio qui è Antonio Vermigli della rete Radio Resce, un postino che era in fresca pensione, lo cercò disperatamente per fargli conoscere Lula quando ancora non era il presidente del Brasile, ma era un metalmeccanico. La rete Radio Resce, una rete cattolica che fa molto volontariato in Brasile, aveva conosciuto Lula del movimento dei lavoratori, è un movimento, non un partito qui molti l'hanno detto, un partito marxista invece nasce proprio, là vabbè, là è un'altra storia dei movimenti che sono mischiati ai cattolici di sinistra, come era un po' l'Italia negli anni 70-75, le comunità di base bianche e rosse erano uguali, c'è un lavoro molto simile, e quindi lui che faceva? Per ogni persona studiava almeno 5-6-7 giorni, mi faceva cercare tutto, non nel computer, perché all'epoca non esistevano neanche nei computer, andavo in biblioteca, andavo nei giornali, andavo a fare la ricerca dei giornali, poi portavo le fotocopie e lui studiava, studiava, studiava pure i respiri della persona, poi quando si sentiva pronto, anche questa era un'altra particolarità che purtroppo non può essere, come posso dire, non può essere replicata, cioè può essere portata avanti, però lui ci metteva tanto tempo, ora i tempi dei social te lo impediscono, o meglio, puoi anche non essere, cioè puoi anche fregartene dei tempi social e fare un lavoro dignitoso, e quindi lui quando era pronto si metteva davanti alla persona e la persona, capendo che lui sapeva tutto di loro, cadeva la maschera, cioè non si nascondevano, perché sapevano che lui sapeva, quindi si aprivano e poi lui era una persona molto, cioè anche questo, era una persona molto seria, ma anche molto dolce, però molto 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 seria, cioè se aveva qualcosa da dire te lo diceva senza mezzi termini, a tutti, ai grandi come alle sue figlie, tra l'altro io c'ho una figlia che sta tutto di blues e di jazz, perché a due anni gli ha fatto sentire tutta, io dico ma che c'entra? E lui invece gli parlava come se fosse, le parlava come se fosse un'adulta, era divertente. Funziona evidentemente, porta un frutto. Quindi questo, il segreto di Minà, sì, il segreto di Minà è questo, era uno che si studiava tantissimo, cioè ci metteva veramente per una persona anche una settimana, dieci giorni. A questo punto io darei l'appuntamento all'interno di Archivissima, che è a Torino, sarà il venerdì 7 giugno alle 21 al Circolo dei Lettori, ci sarà appunto Loredana Macchietti-Minà, Francesca Emilia-Minà e modererà l'incontro Antonio Barilla per l'incontro Un inguaribile curioso. A questo punto arrivano giustificatissimi ringraziamenti anche per il lavoro di Loredana Macchietti-Minà di adesso e di allora per la ricerca, perché appunto altrimenti la fatica era doppia, quindi in due si fa molto più in fretta e molto meglio evidentemente, quindi grazie per allora e per adesso. Io sarei molto curioso di approfondire questo discorso sull'archivio e magari ci possiamo risentire tra qualche mese o tra un anno, se fa piacere. Con molto piacere. E magari portiamo anche un po' di blues, perché no? Perché no? Benissimo, grazie davvero. Grazie. Il prossimo brano sono i Caglie, come si dice, 13 in spagnolo? Caglie Trese. Caglie Trese. Caglie Trese è un gruppo di, oddio, fanno tipo salsa però moderna, tipo, giusto? Qualcosa di simile? In realtà anche loro sono rappe. Ah no, reggaeton, reggaeton, giusto. Una specie di reggaeton, una sorta di... E per noi i loro testi sono coltissimi. Sì, sì, sì. Li ascoltiamo. Ve li ricordo. Grazie, grazie davvero. Li ascoltiamo a volume pari ai prodigi, almeno. Grazie a voi. Grazie a voi. Un abbraccio a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.